Siamo all'esterno delle scuole elementari di Via Roma a Neriano e la situazione ora siamo entrati per quanto riguarda lo spoglio vedi in leggero vantaggio Daniela Colombo rispetto al precedente sindaco, al sindaco in corso, Massimo Cozzi. Ora ci spostiamo negli altri seggi elettorali per capire la situazione. Ok, grazie e a più tardi.